Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio 8, 9, 8, 8-8 di Powerplay Siamo qua con Yas e Carmine, ciao rega Bella, non Carmine non c'è, Carmine ragazzi è un viewer Eeeh, boh, siamo live sul canale Viola come al solito Ho fatto vedere il codice, è entrato il viewer Dato che la season è già buttata facciamo Powerplay anche con i viewer, non mi interessa più nulla Andiamo con Rico, il motivo è che dobbiamo fare ovviamente 24p con Rico, non le faremo mai in 3 partite Noi ovviamente cerchiamo di mandarci avanti, ci riusciremo, non lo so Quanti like, quanti like per questo video? Cioè questo è già bricciato Fatemi vedere quanti siamo in posizione italiana Non ci siamo Quindi decidete voi like, perfetto, andiamo Andiamo ragazzi, fatemi sapere nei commenti se apprezzate come sto editando gli ultimi video Mi è piaciuto, ho trovato un buon programma per editare, ci sto prendendo la mano E mi sa che continuerò ad editarli per bene E ok, andiamo Yes ragazzi è fuori casa, ci ho già avvisato che si gioca male molto come quello Ma io gli ho chiaramente detto, guarda, la season ho mai buttata Puoi giocare anche senza mani, che a me non interessa Una kill è andata Lì ci sono due persone Tra cui Shelly Un'altra kill è andata Quella è tua Un'altra kill è andata L'importante per me ragazzi fare lì chi non mi interessa della cosa stellare o di O di Da la la Grazie mille per l'abbonamento Muterò questa parte per causa di copyright ma grazie mille per l'abbonamento Ok Mi interessano dei kill No no auto aim devi sparare a Shelly Bello mio GG Però voglio fare anche l'altra kill Ma ok Perfetto Andiamo con la seconda partita Anzi ragazzi Un attimo lo sistemo due cosine E ci vediamo con la seconda partita Ehm Tolgo un attimo l'audio Tolgo un attimo l'audio dell'alertbox Perché se no mi tocca tagliare tutto se volete donare altri abbonamenti Ok Ok No se vuoi donarli guarda io non li rifiuto gli abbonamenti dark L'unica è che ora sto registrando Comunque grazie mille Grazie davvero Che sto registrando il video e Mi strike hanno il video Me lo cancellano anche se io lascio questo audio Perché in Italia qualsiasi musica è copyright Su youtube Quindi devo per forza togliere l'audio degli abbonamenti Gli abbonamenti appariranno su schermo ancora Ma senza audio per ora eh Terminato il video Gli metterò col video Con l'audio E' uscito WTF Uno che entri rega Uno che ti deve fare powerplay Ok ragazzi è entrato un altro viewer Andiamo con la seconda partita Prima partita 30 punti Non 33 Ho giocato male Perché Si è visto come stessi andando di auto aim Non me ne vanterei Io non me ne vanterei E Però ora andiamo con la seconda partita E come al solito puntiamo alle kill Sinceramente io ve l'ho detto ragazzi Mi dispiace che voi vediate a me Non puntare più a A fare una buona posizione di powerplay Ma è impossibile Ragazzi ho buttato una giornata intera Non giocandola Quelle successive le ho perse Non ha più senso nemmeno provarci Ad arrivare prima Quindi prossima season Sarà la season buona Io ve lo dico E segnate Per 0,25 però ovviamente Allora 3 kill le abbiamo fatte Che non butto via Potiamo farne altre Ok Perfetto Ah Rip Porco Quello dynamite di bell Bella trottola di dynamite Ah That's a gg Perfetto Andiamo con la terza partita Queste qua 30 di nuovo Sì 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 Perché vi ricordo che Su rapina Bisogna fare Bisogna fare Ora ve lo dico subito Qua 60% Almeno sopra 60% Bella cacata Bella cacata striscio Beh vi dirò 60% Alla fine non è poi così male Il problema è assedio L'assedio ci vuole l'80% Che è tantissimo Ok Andiamo Andiamo con la terza Ed ultima partita di powerball E poi faremo la partita di brawl ball Come solito fare Anche se qua rapina Le partite non sono durate più di tanto Allora L'imbalzino di una Nessuno Ok Così è decisamente meglio Perfetto Perfetto Kill è andata Kill anche quello E siamo a posto Ora L'imbalzino Approfitto della mia star power Perfetto Ok Mi conviene No Allora ora devo utilizzare Una ulti Bella bella Fulminante Come la ulti Mortis Oh Però se sopravvive Con così Ok perfetto Tornado Fulminante Anche da parte del Brock Let's go Let's go Let's go Ora mai più Ora mai più Ora mai più Un altro kill mi serve 1096 Ahia query cosa era l'ulti Classico Classi Moody Richie Egg Ha concluso il nostro Brock Che vi ricordo è un altro viewer Applausi per voi Applausi per voi Alzo le mani al cielo E ora E ora E ora E ora Un attimino Perché abbiamo fatto 33 gg 5 kill Master Rico Ragazzi che ve lo sto a dire No scherzo Eeeh Eh Eh Siamo rientrati in top E a proposito di top Ne approfitto per farvi vedere il clan Browlit È un'idea che È nata da poco Non ha ancora Dei veri e propri vantaggi Per i membri del clan Ci sto lavorando Vorrei comunque creare Dei torni appositi Per il clan Vi terrò aggiornati Nel caso adesso voi vogliate farne parte Questo è il clan Siete tutti benvenuti Eh Non ci sono né votazioni Né un metodo Per entrare Siete tutti liberi di entrare Se avete ovviamente le coppe necessarie Yas metti pure Brawl Ball Se riesce che facciamo una partitina Forse anche due Ne faccio io Eh Se devi andare vai pure Vado di Rico Vado di Rico ancora Perché qua è buonissima La mappa per Rico E soprattutto riesco a fare Almeno spero di fare Abbastanza kill Lui mi chiede che Brawler Vuole utilizzare Io gli dico Se ha una jackie maxato Di utilizzarla volentieri Easy win E via Andiamo 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 Con la partita di Brawler E vediamo di fare bene Qua taglio Devo fare un'altra cosa dopo Ragazzi Ricordatemi che devo mettere Un comando in chat Ti sono dimenticato di fare In this live Vi devo dare Un annuncio Di un torneo Ok È iniziata la partita Voice Allora Abbiamo tre tank contro L'unico che ci può dare Veri e propri problemi È Jackie Noi se ce li teniamo a distanza Siamo a posto Ovvio che se Jackie Mi arriva col gadget È un po' difficile Tenere la distanza Anche perché io Non ho la star power Di Nella corsa E non avrei nemmeno Il tempo necessario Per fuggire Ve lo assicuro Per quanto corre veloce Quello sgorbi Di Jackie Ora boom Classico Che lei fosse lì Anche se questa ulti Poteva decisamente Fare meglio Uh Bell grab Unexpected Devo dire la verità Ho killata io No Però ho killato Jackie GG Vi ripeto Sto puntando a fare Principalmente kill Ragazzi Questo non lo so Quanto mi sia piaciuto Ok Tira con la ulti Va bene Ora ci riprendiamo Non grabbare Jackie Se hai già che grabbare Jackie maxata È inutile Yas E te ci hai provato A grabbarla lo stesso F in the chat Ok Sto usando Delle ulti Fulminanti Corrigo Che li sto proprio Fulminando A vista Per scherzo Nel gioco Ecco Questa non è stata Per niente Fulminante Del tipo Ok Ah Jackie Porco cane Ok Non saprei Perdere questo Sarebbe davvero brutto Poi Vabbè ovvio Se hai un ricco del genere In squadra Una patita del genere Non la puoi perdere È impossibile E io ve lo dimostrerò Vi dimostrerò Come sarà invece possibile Perderla Ok Eh Guarda che qua Hanno due ulti Neanche io ne ho avute due Ne ho avute due Fatte in Zero micro siemens Let's go Let's go Ora mai più Io credo In me Barabara No Va di Ah Mi ha rubato la kill Sembra essere Sembra so forte Ragazzi Madonna GG Ma quanto li ho fulminati Con Rico Ma quante volte Dietro l'ha trattirato I think that's a GG guys That's a GG E con tra loro Si sono ancora primo in Italia Wow Ancora primo Per 5 coppe Sinceramente Non sto pushando questa season Non ve lo ricordo Niente ragazzi Il video termina qua Vi ricordo di seguire tutti i link in descrizione Commentare Iscrivervi E lasciare like Se volete È ovviamente un piacere Che fate a me Dipende da voi Io non ve lo Non vi obbligo a farlo Ma se avete la voglia di farlo Lo apprezzo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi